Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, contrariamente dal solito, vorrei adentrarmi nell'universo cinematografico dietro i supereroi. Parlando della storia cinematografica del Deadpool di Ryan Reynolds e conferme rumors e desideri del web sul terzo capitolo del mercenario chiacchierone più famoso della Marvel, Wade Wilson. Oltre a questo ci tengo a ringraziare Titano News per l'aiuto nella creazione di questo video. Seguitelo sui social. Oltre a questo, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanella e di seguirmi in tutti i miei social, compreso TikTok, per rimanere sempre aggiornati sul mondo supereroistico. Oltre a questo, vi consiglio di utilizzare il codice promozionale GDARU20 nel link di Pampling che trovate sempre qui sotto la descrizione per prendere delle magliette belle come queste e ottenere in omaggio delle calze. Detto ciò ragazzi, non perdiamo altro tempo. A voi il video. Buona visione. Prima di partire con i rumors, vorrei fare un riassuntone su tutte le vicende. Dietro a questa fantastica, si spera, trilogia. Naturalmente, allerta spoiler su tutti i film del mercenario. Forse anche il terzo. Facendo un salto indietro di quasi vent'anni fino al 2004, nelle fumetterie americane, uscì il primo numero della serie cartacea Cable e Deadpool. Oltre a dare carattere al personaggio di Wade, al periodo ci regalò una vera e propria premonizione. Tra le pagine di questi 50 numeroni, Wade, togliendosi la maschera, si paragonerà a un incrocio tra Ryan Reynolds e uno Sharpay. Quei cagnoloni tutti rugosi. Dando il via a tutto quello che abbiamo visto. Ma come sempre, andiamo avanti. Questa vignetta e il successo del secondo film sugli X-Men fece muovere le rotelle nella testolona dei capocchia della 20th Century Fox, che decise a cavalcare l'onda dei comics e dei cinecomics del periodo, iniziarono a fantasticare sul possibile arrivo di Wade nel mondo filmico dei mutanti. Tutto questo muovere i film invisibili per noi comuni esseri umani durò fino al 2008, quando sui vari siti e riviste giornalistiche del periodo, si iniziò a parlare dell'arrivo imminente del primo film da solista, o quasi, del promettente Wolverine di Hugh Jackman, che dopo aver fatto sognare mezzomondo con i propri artigli dal 2000 al 2006, con la trilogia dell'X-Men, ci avrebbe mostrato finalmente le origini dell'eroe. Tra i numerosi e devo dire tiepidi annunci, troveremo le prime scoperte sul cast. E, tra questi nomi, era presente quello di Ryan Reynolds. La famosa rivista Coming Soon colse subito la palla al balzo, intervistando l'attore e riempendolo di domande. Fresco fresco dall'uscita del film, certamente forse, e pronto per il drammatico Un segreto tra di noi, Ryan fece il primo passo verso la strada che lo portò a interpretare Wade Cazzone Wilson, confidando all'attestata giornalistica che, oltre a Flash, era interessato a portare sul grande schermo anche Deadpool. Come potrete immaginare, da lì nacono le prime teorie dei fan sul mercenario chiacchierone, al periodo molto di nicchia, facendo sperare in un bel film tutti i fan. Dopo rumors e conferme varie, arriviamo finalmente al primo maggio 2009, con l'uscita dell'atteso X-Men Wolverine le origini e l'esordio di Ryan Reynolds nei panni del mercenario. Fin dal 2009, questo debutto è stato uno dei più odiati e criticati dai fan comics. Ma, come sempre, spieghiamo il perché. Dalle fondamenta vagamente stabili, viste nella prima parte del film, Quest'ultime sono state del tutto rase al suolo con l'arrivo della discutibile Arma 11, che, oltre a mostrarci tutto quello che non è Deadpool, poteri compresi, ha tolto ogni speranza futura di vedere un sequel. Spiegando quest'ultima mia frase, questo Deadpool, con moltissime virgolette, per quanto esteticamente intrigante, sì, Mauro e Andrea, l'ho detto, è stato completamente stravolto dalla troppa libertà data al regista Gavin Hood, che, oltre a dare teletrasporto, occhi laser e delle lame retrattili, questa libertà ha privato Deadpool di una delle sue parti più importanti, la sua dannata bocca. Questa scelta, molto, 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 ma molto discutibile, poteva andarci molto peggio con le prime bozze del personaggio, che, fortunatamente, non sono state approvate dall'alto. Sto fermandomi sulla parola sequel nominata poco fa, subito dopo l'uscita del film, dai meandri dell'internet datato 2009, uscirono le prime notizie sul sequel del mercenario, che, grazie alla post-credit tagliata e le varie interviste di Ryan Reynolds, hanno acceso uno spiraglio di felicità nel cuore dei fan vecchi a scuola. Questa scena tagliata in molte versioni del film, e quindi poco vista, vedeva Wade Wilson finalmente con la sua bocca scucita, muovere le proprie mani verso la propria testa mozzata da Wolverine, alla fine del film, mostrandoci così una breve scena, che rimanda a una famosa abilità di Deadpool vista e rivista nei comics, l'abilità di riattaccarsi la testa. Ma questa, come sempre, è un'altra storia. Ho un'altra testa. Fate un po' voi. Andando avanti col tempo, secondo varie conferme e voci di corridoio, nel 2010, la Fox, inizia a muoversi verso la realizzazione del primo film su Deadpool, assumendo gli sceneggiatori Reese e Wernic, per intenderci quelli di Zombieland, e dandogli il compito di scrivere lo script sul film e storia del mercenario. Questa assunzione fu affiancata dallo stesso Ryan Reynolds e regista Tim Miller, che, a detta loro, crearono qualcosa di incredibile. Questa incredibile creazione, che non vedrà mai la luce del sole, o quasi, venne completamente affossata dalla stessa Fox, che preoccupata per il troppo sangue, volgarità, cose zozze, ma soprattutto il flop di Green Lantern, decise di cestinare il progetto. Mettendo il puntino sulla I per i non fan della DC Comics, nel 2011, nelle sale mondiali, uscì il primo e ultimo film su Green Lantern, l'alter eco di Hal Jordan, interpretato dallo stesso Ryan Reynolds. Come potrete immaginare, questo film, fatto completamente in CGI e a tratti col culo, fu uno dei flop più grandi dei cinecomics della DC, che, oltre a far fare passi indietro alla Warner Bros., fece tremare anche altre major, tra cui la stessa Fox. Tutto quello vissuto fino a quel fatidico 2011, finì in un enorme cassetto, riempito di sogni infranti e progetti mai realizzati. Ma qualcuno che dobbiamo ringraziare non si arrese. Questo, o questi qualcuno, erano Ryan Miller, e il creatore stesso di Deadpool, che decise a portare sul grande schermo quest'ultimo, fecero una vera e propria pazzia. Ma ci arriveremo dopo. Fatta la pazzia e consegnata capocchia della 20th Century Fox, quest'ultima, convinta delle proprie scelte, di cacca, impose al progetto un tuonante no, che portò tutti a gettare la spugna. Oh, quasi. Il tempo passa e tutti i fan del mercenario ormai rassegnati dissero addio al film di Deadpool. Ma, e dico ma, nel 2013, santa data, ottennero qualcosa che, secondo me, smosse le acque turbide di Hollywood. Questo qualcosa era la prima trasposizione videoludica del formidabile Wade Wilson, che rilasciata per la PS3, Xbox 360 e PC, ha seguito l'onda della fama incredibile del personaggio grazie ai comics e alla sua serie regolare. Questo gioco ha tenuto viva la speranza per noi fan vecchia scuola, ma la vera scintilla che ha riacceso il fuoco dentro tutti arriverà un anno dopo da questo incredibile, ma breve, videogame. Dico questo perché un anno dopo, nel 2014, nel web arriva la bomba. Questa bomba era uno strano filmato di un minuto e 48, di pura adrenalina su Deadpool. Ma la domanda è, da dove arrivò? Ricordate la pazzia citata poco fa? Eccola qui. Il trio, decise a mostrare le potenzialità di Wade Wilson alla volpe non tanto furba, crea un filmato realizzato in stile videogame. Se vuoi vederlo, te lo lascio qui sopra o qui sotto in descrizione. Che oltre a mostrare la prima bozza di una scena visibile anche nel primo film di Deadpool, convince Ryan Reynolds, il regista, che quella era la strada giusta. Questo video, realizzato nel 2011, fece la sua comparsa su web ben tre anni dopo, venendo diffuso illegalmente dai Newt, anche se abbiamo qualche dubbio, e facendo tanto infuriare la Fox. Quest'ultima, decise a iniziare una guerra contro il web, cercò in tutti i modi di cancellare il video da ogni parte dell'internet. Ma visto l'enorme successo e soprattutto l'approvazione del pubblico, alla fine decise di alzare le mani a rendersi. Come potrete dedurre, questo video face strappare i capelli dei fan dalla contentezza, portando finalmente la dannata Fox a dare l'ok per questo film. Datemi un amen. Alleluia. Arriviamo finalmente al 2016. Dopo anni di sudate, condivisioni folli, rumor, trailer e interviste pazze, nelle sale arriva l'attesissimo film. E... è un vero capolavoro. Miller e Ryan sono riusciti, con un budget veramente ridotto per i standard hollywoodiani, a creare un'origine storia molto romanzata di Wade Cazzone Wilson, regalandoci il cattivone di tutto rispetto, Francis, e anche una storia d'amore davvero interessante. Oltre lo stile splatter e volgare, che si scosta parecchio dai cinecomics del periodo, questo film ha fatto capire ai big che i sogni vanno inseguiti e che è una buona idea, porta tanti soldi. In questi 108 minuti di pura serietà, divertimento e rottura della quarta parete, Wade metterà le fondamenta per il suo futuro sequel, che non tarderà ad arrivare. E i fan sono finalmente contenti. Questi due film, che hanno presentato varianti dell'X-Man e i suoi nemici molto interessanti, esempio Colosso e Fenomeno, avevano come scopo, o quasi, il reset di tutte le minchiate realizzate nei vari film di Wolverine e dell'X-Man da tutti i suoi registi, che incapaci di guardare i prequel, hanno creato buchi di trama e incongruenze da paura. Dico questo? Alerta spoiler sul finale del secondo, perché Wade, grazie a un bracciale temporale rubato a Cable, inizierà il suo personale viaggio verso le altre realtà, spazzando via ogni pilastro del proprio universo e facendo la frittata. Questo che appena ha detto non è nulla di confermato, ma finalmente arriviamo al 2020. Dopo anni di attività, idee geniali e idee molto discutibili, esempio Fantastici 4 del 2015, la Fox, per motivi che non ci interessano davvero, finirà nel mirino del topo malefico che governa la Disney. Venendo assimilata da quest'ultima e passando non del tutto al lato oscuro. Questa notizia allarmante per gli oppositori del topo ha nuovamente portato i fan di Wade ad avere paura per il proprio personaggio preferito. Ma in che senso? Come sappiamo, l'universo Fox e quello MCU sono sempre stati separati dai famosi diritti, muovendosi separatamente nel multiverso e non interagendo mai tra di loro. Questo ha portato tutti noi, me compreso, all'idea di un possibile recast di Wade e alla possibile rivisitazione di quest'ultimo. Teoria lì, complotto qui, le foto di Ryan Reynolds e Hugh Jackman insieme su Instagram, le notizie ufficiali dei Marvel Studios continuarono in modo molto discontinuo per due anni, confermando la decisione di continuare la strada dettata dai primi due film di Ryan Reynolds ma mettendoci qualcosa, o così pare, di multiversale in mezzo. Ma finalmente arriviamo ai rumors e conferme. L'ultima fermata di questo incredibile viaggio, fatto di sogni realizzati e porta in faccia, ci porta a settembre dell'anno scorso, più precisamente nella pagina Instagram di Ryan Reynolds. Così dal nulla, l'attore fa uscire un video dall'aria molto enigmatica ma con un finale davvero inaspettato. L'annuncio di Deadpool 3 e la presenza di Hugh Jackman all'interno. Wow, questa realizzazione di un sogno proibito per tutti noi ha dato via a speculazioni che nemmeno i peggiori complottisti della storia sono riusciti a realizzare e dopo quel video è successo letteralmente il delirio. Dico questo perché dopo questo video internet è letteralmente esploso, dividendo i fan a metà, non letteralmente. Dico ciò perché molti fan della saga Fox sono pienamente convinti che i Marvel Studios rovineranno l'eredità le Wolverine di Hugh Jackman ed il suo ultimo capolavoro intitolato Logan, stravolgendo tutto e non riparando nessun buco di trama. Anzi, l'altra metà dei fan Marvel ha vissuto questo annuncio inaspettato come un vero e proprio déjà vu. Dico questo perché vedere Ryan e Hugh Jackman ringraziare Kevin Feige ha riportato tutti i fan Marvel indietro nel tempo fino al 15 dicembre del 2021, quando nelle sale mondiali facevano la loro super comparsa Andrew Garfield e Tommy Maguire nei panni del loro corrispettivi Spider-Man. Questo film, tutto fan service e ricordi, ha dato il via a una carrellata di ritorni incredibili come lo stesso Xavier di Patrick Stewart e il Pietro Maximoff di Evan. E come si sa, la storia si ripete sempre, ma questo è solo l'inizio. Il primo a fare un passo avanti verso i microfoni, dopo Titania di Shulk, è la strabiliante Elizabeth Olsen che è decisa a conoscere le versioni Fox di suo padre, o quasi, se vuoi sapere di più ti consiglio il mio video su Wanda, ha rivelato che sarebbe molto interessata a un cameo in Deadpool 3, portando sul grande schermo la terza variante di Scarlet Witch. Dopo questa notizia e i vari video di Jackman che si pompa per diventare grossissimo, sul web sono apparsi dei rumors sui Fantastici 4 Daredevil e l'enigmatica TVA, dandoci la conferma, o quasi, che Deadpool è capace di girare per le realtà. A quanto pare, dopo il secondo film di Deadpool, quest'ultimo ha preso il segreto di tutta la realtà che circonda il multiverso Marvel, decidendo così di farsi l'affaracci suoi in giro per gli universi, eseguendo così la sacra linea temporale e seguendo il filone di Deadpool uccide l'universo Marvel. Questo che ho detto naturalmente è un rumor. Come sappiamo dalla serie Loki Doctor Strange 2 e i vari film di Spider-Man, il multiverso è la cosa più complessa e delicata di tutto l'omniverso e Wade risulterebbe come un elefante in un negozio di cristalli. Questi rumors sulla TVA sono stati confermati a luglio di quest'anno, con l'arrivo delle prime foto dal set. In queste immagini mozzafiato, possiamo assistere alla prima apparizione di Wolverine di Hugh Jackman col costume, che pronta a menare le mani contro Wade, ci mostrano uno sfondo davvero particolare. Questo set desolato e post-apocalittico ci mostra tutto e niente, ma una cosa salta subito all'occhio. Il logo della 20th Century Fox in rovina. Questa presenza del logo Fox sul set ci riporta dritti dritti alla serie televisiva Loki, ma più precisamente al Void. Come ricorderemo dalla serie, ogni variante che si sposta dalla retta via prestabilita riceve direttamente una visita e una falciatura da parte delle autorità che si occupano del controllo ed è la salvaguardia della sacra linea temporale. Diciamo la timeline. E Wade Wilson alla fine del suo secondo film ha intaccato proprio quest'ultima. Questo avrebbe causato lo sgretolarsi di tutta la realtà Fox che lasciata marcire nel Void per colpa del mercenario darà vita a qualcosa di molto più grande e soprattutto catastrofico. Mettendo un puntino immaginario in questa I immaginaria Wade, cazzone Wilson in questi ultimi anni non è stato il solo a intaccare questa linea. I voci di corridoio in casa Marvel Studios sussurrano la presenza nel film di personaggi molto famosi targati MCU. Questi personaggi togliendo la TVA e il Loki visto che si pensa della presenza di Wade nella post-credit della serie del Dio dell'inganno sono Dotto Dotto e Clea intenti a sostenere il multiverso e tutte le fondamenta della realtà dopo la follia vista nel secondo film dello stregone lo Spider-Man di Holland e il Miles Morales di Across the Spider-Verse che hanno causato il crollo di varie realtà dopo aver cambiato degli eventi nexus e canonici che ricordiamo non sono la stessa cosa She-Hulk che interagendo direttamente con Kevin ha cambiato la propria linea temporale e il proprio finale rendendo inutile la briciola di trama che c'era nella sua discutibile serie il temibile Kang che ramificato in ogni realtà ama controllare le realtà e studiarne gli eventi e per ultimi l'osservatore e Strange della serie What If che oltre a interferire con qualcosa di sacro hanno fatto la frittata tutti questi personaggi potrebbero apparire anche solo come cameo magari visti alla lontana nella bizzarra trama di Deadpool 3 che grazie alle conferme sul cast ci porta a pensare che questo film sarà solo l'inizio che ci porterà al film Secret War ma ci arriveremo in seguito magari con un video apposito parlando di conferme oltre a Wolverine abbiamo la conferma del ritorno di Jennifer Karner Electra quella del 2005 Daniel Redcliffe Harry Potter in un ruolo segreto chissà magari una variante di Wolverine Schleyber nuovamente nei panni di Victor Creed e per ultima ma non per importanza Emma Corrin che varie speculazioni la vedono come Danger la manifestazione fisica della sala di addestramento dell'X-Man o come una variante femminile di Wade comunemente chiamata Lady Deadpool l'alter ego di Wanda Wilson quest'ultima idea è avallata anche da rumors o mezzo spoiler che vedrebbe Kidpool nella pellicola e una possibile apparizione magari nella post credit dei Deadpool Corps un gruppo che ironizza sul corpo delle lanterne verdi composto da varianti di Wade se vuoi saperne di più su questo giovane personaggio ho realizzato un reel che trovi su TikTok Instagram ma andiamo avanti oltre tutte queste varie molliche di pane sparse per il web ci fanno pensare al ritorno di vari membri degli X-Men da entrambe le linee temporali viste nei film Fox la silenziosa cattiva X-23 magari cresciuta Pietro Maximoff con tutta la sua simpatia e velocità chissà anche quello magari dell'MCU uno dei due se non entrambi in magneto e chissà quanti altri una delle cose più quotate per questo film è il suo collegamento con il futuro progetto Secret Wars ma spieghiamo il perché nei comics ci sono state varie battaglie segrete sparse per il multiverso ma di cosa si tratta? titolo apparso per la prima volta nel 1984 questa storia vedrà un essere primordiale conosciuto come l'Arcano mettere insieme un gruppo di supereroi e super cattivi e catapultarli nel Battleworld un pianeta creato dall'entità solo come arena per queste battaglie questa storia datata ma storica ci mostrerà anche la prima apparizione del simbionte Venom al periodo solo un costume senziente ma anche un cambiamento emotivo e mentale di molti supereroi nel 2015 questo titolo rifarà la sua comparsa in un crossover di nove numeri tra la Terra 616 e la Terra 1610 quella Ultimate nominando per la prima volta o quasi la parola incursione a quanto pare le due terre o universi uscirono dal loro asse multiversale vagando per l'omnitutto ed entrando in collisione tra di loro questo avvenimento che ha portato alla nascita di un solo universo verrà citato anche nel secondo film dello Stregone Supremo e secondo i rumors potrebbe essere stato causato da Wade e da tutti i personaggi che hanno giocato con le realtà portando le varie terre cinematografiche a scontrarsi tra loro questo io lo dico da dopo in game per molti porterà alla collisione varie terre e alla fusione e cancellazione di tutto il multiverso portando il reboot di tutto e creando una sola linea temporale secondo me i Marvel Studios portando in un solo punto tutti i personaggi visti in tutti i film dagli anni 90 a oggi vogliono creare un filo conduttore per ogni film creato resettando tutto e avendo finalmente pieno controllo di ogni personaggio questo reset reboot e possibili recast porterebbe ogni nuovo spettatore a non doversi recuperare 30 anni di film per capirci qualcosa ma dovrebbe cominciare solamente dai nuovi film fregandosene altamente di quelli vecchi quest'idea secondo il mio modesto parere porterebbe la fine dell'astio creato dai fan tossici dell'MCU che bravano solamente di vedere tutto quello creato fino ad ora verso la fine personalmente sono molto favorevole a questa idea e se sarà proprio Wade a portare la Marvel Studios in un nuovo universo in stile Deadpool uccide l'universo Marvel questo mi rende davvero felice ma questa come sempre è un'altra storia che vedremo in seguito tutto quello che ho appena detto ci farebbe pensare a un super budget per questo film ma perdonate il mio modo crudele di infrangere i vostri sogni forse non è così come sappiamo il primo Deadpool è stato creato con solamente con moltissime virgolette 58 milioni mentre il secondo ha ricevuto il doppio del budget guadagnando insieme al primo un miliardo e mezzo al botteghino questo ci fa ben sperare in un budget raddoppiato ulteriormente ma se ci mettiamo in mezzo tutti i nomi citati in questo video i soldi per il film si riducono parecchio io personalmente vorrei vedere la metà di tutti i nomi citati in questi mesi per dare spazio a Ryan Reynolds e Hugh Jackman e fargli creare un ottimo finale di trilogia naturalmente questo film parla solo ed esclusivamente di Wade Wilson quindi sinceramente non mi aspetto nemmeno tutti questi artigli anche se Daniel come già detto è ipotizzato come variante di Wolverine per ultima cosa ma non per importanza tutti e dico tutti ci hanno rassicurato che non mancheranno le volgarità il sangue e l'ironia che contraddistinguono Deadpool ma qui sinceramente dopo Chicova e dopo Modok Thor Gor She-Hulk Zeus e tutte le new entry sinceramente ho paura e voi fatemi sapere la vostra qui sotto ragazzi questo video enorme del TGNerd finalmente finisce qui spero che questo video vi sia piaciuto se vi è piaciuto sapete già cosa fare lasciate un bel like condividere e iscrivetevi al canale perché per noi è molto importante detto ciò qui sotto nei commenti aspetto la vostra e noi ci vediamo sempre qui in questo canale fatti di origine versioni curiosità e speciali TGNerd ciao ragazzi alla prossima che dopo aver fatto sognare mezzo mondo con i propri atti intervistando l'attore uscirono le prime notizie sul sequel di un mer e siamo un po' non mi chiede un topolino se vuoi vederlo te lo lascio qui sotto qui sotto è l'enigmatico è l'enigmatico è l'enigmatico è l'enigmatico è l'enigmatico